ciao a tutti oggi un nuovo video tutorial per youplacraft questo mese ho pensato di realizzare un kit per realizzare un mini album in viaggio infatti la scatolina a forma di trolley e all'interno si trovano un set di abbellimenti e alcune fustellate a forma di polaroid per realizzare a mano a mano un piccolo mini album che ho pensato di regalare alla mia amica per il suo viaggio potrete inoltre scaricare gratuitamente il cartamodello trovate il link giù nell'info box bene spero che questo video possa piacervi grazie a tutti 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 grazie a tutti